Siamo giunti all'ultimo concorrente di questo pomeriggio, che è Fu Ying, Cina, di anni 28. Eseguirà di Johann Sebastian Bach, Alemanda, Yubel, Corrente e Yubel Presto, dalla prima partita in sì in nona. Di Rodolfo Ripitzer, studio numero 18, variazioni ad agio, mosso, ritmico e marcato dalla tecnica superiore del violino. E di Wolfgang Mateus Mozart, il concerto in la maggiore, KV219, primo movimento e cadenza Luca, al pianoforte di Udini Sinansky. Con questo concorrente si concludono le prove di questo pomeriggio, prove che riprenderanno con l'ultima sessione, la prima prova in notoria, questa sera alle 20.30. Grazie per la sentire attenzione e buon aspetto. Grazie. 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 Grazie.